5, 4, 3, 2, 1, andiamo 30, destra 4, 60, alla palanga sinistra 3, alla palanga sinistra 3, 30, sinistra 3, per destra 3, 10, sinistra 2, alla zebra destra 1, non tagliare, 20, destra 3, subito al cartello sinistra 2, 10, sinistra 1, 30, destra 3, due tempi chiude 2, 40, sinistra 4, per destra 4, 20, sinistra 3, al rail sinistra 2, 30, al rail destra 4, per sinistra 4, per sinistra 5, 50, alla pianta sinistra 2, 10, destra 2, al giallo sinistra 2, 100, al muro destra 3, lunga lunga, destra 3, lunga lunga, 100, al cartello sinistra 3, 20, destra 3, ai paletti, sinistra 2, per molta attenzione che stringe, destra 2, 20, sinistra 2, ai cartelli, al palo, al palo destra 2, al palo sinistra 3, là, no, 30, destra 3, attenzione, sinistra 2, scende, alla casa sinistra, ok, tieni a sinistra, sale, al rovescio, destra 3, a 30, al rail, destra 3, alla siepe destra 2, lunga mi sono ritrovato, alla pala, sinistra 3, alla ringhiera sinistra 2, per destra 2, 50 a destri, al muro destra 3, sinistra 4, qui entriamo l'agliola, 50, a rovescio, destra 3, 150 a vista, poi c'è una chicane, entrata destra, sono 2, 50, accenno destro per tornante sinistro, destra 4, 30, alla zebra, destra 3, per sinistra 3, per subito tornante destro, 50, alla casa sinistra 4, 50, alle piante, accenno sinistro per destra 3, 20, al palo destra 3, al rail, sinistra 4, 60 a vista, al secondo giallo, destra 4, 30, alla casa, tornante sinistro, 50, al giallo, tornante destro, non tagliare, 150 a vista, al blu 30, poi tornante sinistro, al blu 30, poi tornante sinistro, 30, sinistra 4, 20, tornante destro, 30, sinistra 5, 50, al rail, sinistra 2, lunga, al rail sinistra 2, lunga, 20, destra 3, per subito sinistra, ti ricordi che si esce qua eh? Allo specchio destra 2, 10, destra 3, per sinistra 3, 50, alla sieppe destra 4, 30, destra 4, 50, c'è il ballone con un sinistra 1, 200, 200 a vista, chicane entrata a destra, sono 3, e poi prendiamo a sinistra la, dopo la chicane entriamo a sinistra, 50, attenzione, molta, destra 2, salta, 30, destra 2, per sinistra 2, 100, destra 4, per chicane entrata a sinistra, sono 3, 100 a vista, alla zebra destra 4, in sinistra 4, chicane entrata a destra, sono 3, al cartello, destra 4, 30, tornante sinistro, 20, destra 2, lunga, 50, tornante destro, 50, tornante destro, per sinistra 2, 20, tornante sinistro, per sinistra 2, lunga, per tornante destro, 20, destra 3, per attenzione, subito tornante sinistro, per destra 3, lunga, 30, alle piante, sinistra 3, per destra 3, poi c'è un 20, tornante destro, eh, 20, tornante destro, per sinistra 2, lunga, alla zebra, destra 2, per sinistra 2, per tornante sinistro, destra 2, per tornante sinistro, per destra 3, per destra 3, al cartello, sinistra 3, subito tornante destro, sinistra 3, subito tornante destro, subito sinistra 3, 20, sinistra 2, alle zebre, tornante sinistro, per destra 3, lunga, lunga, al cartello, sinistra 3, per tornante destro, sinistra 3, per tornante destro, eh, 50, al rail sinistra 2, al rail sinistra 2, 40, accenno destro, tornante sinistro, accenno destro, tornante sinistro, a rail, destra 3, lunga, 20, supine prova, attenzione, tornante destro, bravo Michele, perché è andato? Sì.